dal fronte anti lobotomizzazione il ritorno ritorno da d'amburgo da dalla germania uber alles che vi che vi devo dire che vi devo dire sono atterrato e praticamente uno vuole provare anche avere tutto l'ottimismo del mondo ma sono andato al bar appena sono arrivato in italia c'era la lì una specie di crudelia de mon coa divisa sono arrivato buongiorno salve un caffè a voi ha risposto a voi ha salutato e mi sono detto benvenuto italia è così comunque voglio rispondere per quanto riguarda ovviamente sono stato in un paese organizzato si vede non è che voglio dire che sia tutto oro non è quello assolutamente però insomma le cose minime ci sono allora io credo che una persona che paga le tasse che va al lavoro e vuole essere una persona onesta se non c'ha nemmeno la pulizia sui mezzi se non c'ha nemmeno il fatto di prendere un mezzo senza nessuno ti rompe le palle che non c'ha nemmeno il fatto che che le cose funzionino vorrei sapere insomma se non ci sta manco quello e soprattutto se non c'è una città pulita perché io sono stato a hamburgo poi ho fatto un giro a brema che c'è una piazza bellissima stupenda e niente volevo rispondere pure insomma un ragazzo che conosco saluto fabiano che mi ha scritto giustamente mi ha detto dice guarda comunque la germania non è che è tutto così bellissimo ci sono anche zone un pochino peggio beh ma sicuramente non dico di no non è che voglio dire che è tutto perché dire che è tutto perfetto credo che sarebbe stupito chi lo dice ma soprattutto chi ci crede però come ho detto lui mi ha detto ma ha scritto eh ma ma non è tutto come al centro eh ma a Roma al centro puzza tutto di piscio amico mio fabiano eh non è che c'è capito che ti voglio dire cioè almeno le cose quelle là loro almeno ce l'hanno però cioè il contrasto che c'è che poi come ho detto nell'altro video dove facevo vedere le condizioni del parco di hamburgo parco stupendo dove tu ci puoi mangiare per terra il problema degli italiani e soprattutto i giovani è che loro crescono e pensano a farsi i risvortini se ovviamente se fate moda è perché il giorno prima ne piacciono a nessuno il giorno dopo tutti così poi ehm gli interessa sta a far la fila pilocale perché se vive solo per andare a ballare perché il problema è solo quello nella vita e poi ovviamente tutti questi posti di stan fila vabbè già ne abbiamo parlato poi se vive per essere tutti super super acchittati e farsi foto continuamente per ammazzarsi solo per il calcio no per il calcio oppure magari se uno passa a cazzo dei guardiai io sono un malandrino sono cancer auto un po' capito e poi più sono così e più gli piace nei tonne quindi ehm lo stato fa schifo lo stato è inesistente lo stato è una vergogna ma lo stato si approfitta di un popolo che pensa solo a questo e quindi continuano sempre a fare quello voi in italia pensate a seguire sempre ogni moda tipo pure se vi mettono un lampione in faccia voi ok lo fanno tutti lo facciamo pure noi mentre gli altri almeno almeno i parchi almeno le cose ce l'hanno pulite cioè io sono stato a un parco a un burgo bellissimo sono stato a una piazza a brema che è un sogno sembra di stare dentro a un presepe cronache dal fronte di lobotomizzazione mi raccomando eh mi raccomando pensiamo sempre a far solo questo eh non pensiamo a pretendere almeno almeno un parco pulito Cristo un parco pulito cronache dal fronte di lobotomizzazione accendi il cervello e spegni la dv che non racconta questo vino in fondo